Ma se l'apocalisse zombie fosse vera, quanto tempo durerebbe? Lo so che tra i pochi che vedranno questo video c'è già qualcuno con l'ascia limata e il fucile carico a pallettoni per sparare a qualche morto vivente, ma forse non sapete che esistono 6 ragioni scientifiche, o forse anche di più, per cui un apocalisse zombie durerebbe veramente pochissimo. 1. Sono irrimediabilmente stupidi. Di base barcollano per le città cercando cibo, cioè altre cose da mangiare. Ma non hanno grosse abilità, quindi ogni cavolo di cosa potrebbe fermarli, compreso un bidone dell'immondizia. 2. Il caldo. Dato che lo zombie è morto e non ha nessuna abilità di ripararsi dal caldo, beh, con il tempo si decomporrebbe molto velocemente e alla fine alcuni di loro potrebbero anche... 3. Gli animali. Beh, se non tutti gli animali sono diventati a loro volta zombie o si sono trasformati in altre cose che al momento, non so, anche delle stramaledettissime mosche potrebbero essere la causa della loro sconfitta. E dato che anche qui gli zombie non riescono a scacciarle, inizierebbero a mangiarseli e quindi... Ciao ciao amico zombie! Seguimi, se anche tu sei uno zombie e vuoi vedere la parte 2 del video per sapere come morirai!